C'è una TV aperta alle iniziative delle chiese locali e delle missioni in terre lontane. C'è una TV coinvolta dalle storie quotidiane dei senza voce. C'è una TV sollecita verso i bisogni degli anziani, dei malati, degli emarginati. C'è una TV sensibile alle attività del volontariato e dell'associazionismo solidale. C'è una TV attenta alle vicende delle famiglie, dei giovani, della scuola, del lavoro. C'è una TV che parla al cuore di ognuno per diffondere la buona notizia e che cerca amici per condividere un percorso comune. Amici di Teledeon, basta un piccolo gesto. Teledeon, la TV del cuore, perché ci piace comunicare per bene. Ben trovati all'appuntamento con lo spazio informativo di Teledeon. Ecco i titoli delle principali notizie di cui ci occuperemo nel corso di questa edizione. 10 casi di seo in Puglia, la regione rassicura situazione sotto controllo. Carceri sovraffollate con il rischio suicidi, la polizia penitenziaria in prima linea. Blindati in casa per colpa dei topi a Taranto, i cittadini chiedono aiuto. Il ferragosto è alle spalle, ma i tesori di Puglia sono ancora a disposizione dei turisti. E allora, rieccoci in studio. Cominciamo questa edizione con la vicenda dei casi di Seula, sindrome emolitico-uremica riscontrati in Puglia. La situazione viene monitorata minuto per minuto dall'osservatorio epidemiologico pugliese. La scheda. Non vi sono nuovi casi di sindrome emolitico-uremica, la cosiddetta SEU, oltre ai sette bambini di età inferiore ai tre anni ricoverati al pediatrico di Bari e ai tre piccoli e ad un adulto già dimessi. Lo si apprende dall'osservatorio epidemiologico regionale OER pugliese. La situazione è invariata rispetto ai giorni scorsi, ha spiegato la professoressa Cinzia Germinario, direttore scientifico dell'OER Puglia. Abbiamo appena finito di risentire tutti i pronto soccorso e la situazione tranquilla. A lanciare l'allerta era stata la stessa regione. L'assessore regionale al welfare Elena Gentile aveva infatti comunicato che tra il primo e il 14 agosto sono stati riscontrati dieci casi di sindrome emolitico-uremica che possono aver avuto origine in Puglia. Si tratta di un'infezione intestinale che colpisce prevalentemente i bambini, ha spiegato l'assessore Gentile, tra l'altro medico-pediatra, e che si manifesta con diarrea spesso caratterizzata da presenza di sangue nelle feci, vomito e dolore addominale. Le cause dell'infezione sono in corso di accertamento da parte delle autorità sanitarie della regione Puglia in collaborazione con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. L'assessorato regionale, continua l'assessore, ha già rinforzato la sorveglianza epidemiologica locale sulle infezioni gastroenteriche e l'ha allertato le strutture sanitarie in modo da garantire una pronta risposta sul territorio. Nel frattempo, l'Istituto Superiore di Sanità ha allertato tutti i reparti italiani di nefrologia pediatrica al fine di individuare eventuali casi potenzialmente collegati all'episodio in altre regioni. Allo stesso scopo, l'IS ha inviato un'allerta al Centro Europeo per il controllo delle malattie infettive. L'assessorato raccomanda di rivolgersi alle strutture sanitarie in caso di diarrea caratterizzata da presenza di sangue nelle feci, soprattutto nei bambini nei primi anni di vita. È sempre importante il rispetto delle normali regole di igiene personale e alimentare, conclude la Gentile, come lavarsi le mani, pulire accuratamente frutta e verdura, conservare e cuocere correttamente gli alimenti. Il Consiglio regionale pugliese potrebbe proporre un referendum abrogativo della legge nazionale che taglia 220 sezioni distaccate dei tribunali, tra i quali anche quelli compresi nel territorio del foro di Trani. Il termine a disposizione dei consigli regionali per proporre alla Cassazione una consulta referendaria scade il 30 settembre. Il Parlamento pugliese dovrà decidere cosa fare entro quella data. Tutto nasce dagli tagli introdotti dal governo Monti nell'ambito della cosiddetta spending review. Secondo il Presidente del Consiglio regionale pugliese, Onofrio Introna, la cancellazione degli uffici giudiziari distaccati va riconsiderata o abrogata perché comporterebbe pesanti e gravi di costi agli operatori ed ai cittadini, oltre a forti disagi per gli spostamenti necessari. Le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena pugliese sono sempre più delicate. A lanciare l'ennesimo allarme sono i sindacati della Polizia Penitenziaria e ieri ancora due casi di tentato suicidio da parte di detenuti del carcere di Taranto. Il servizio. Tentano il suicidio in carcere a Taranto. Sono stati salvati grazie al pronto intervento del personale di Polizia Penitenziaria. Sono stati salvati in extremis i due detenuti nella casa circondariale di Taranto. Uno aveva tentato di impiccarsi, l'altro aveva ingerito una lametta. A renderlo noto, Angelo Palazzo, segretario provinciale OSAP, una delle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria. In quest'ultimo periodo, si legge nella nota, questi interventi sono di normale routine e ci fanno riflettere come si vive nel penitenziario ionico e non solo, dove vi è una forte carenza di personale di Polizia Penitenziaria, adesso ulteriormente ridotto per il piano ferie. E quello in servizio è costretto a subire turni massacranti, con più ordini di servizio. Ma come si può notare, il personale di Polizia è sempre pronto a salvare vite umane. Anche il COSP, il coordinamento sindacale penitenziario, interviene in queste ore sulla questione carcere. Intervenire il segretario generale nazionale Domenico Mastrulli, appena rieletto per altri quattro anni alla guida del COSP del congresso che si è tenuto a Trani, alla presenza di oltre 70 tra dirigenti e delegati del settore iscritti al sindacato. Le fonti COSP, scrive Mastrulli, parlano di circa 200 casi di suicidi di detenuti e di una tensione altissima all'interno delle carceri italiane, a causa del sovraffollamento e dell'insufficienza di personale. Una situazione che non potrà essere sanata, certamente solo con il cosiddetto decreto svuotacarceri. Restiamo a Taranto, dove alcuni cittadini chiedono il pronto intervento da parte delle autorità preposte per affrontare l'emergenza topi. In alcuni casi i residenti sono costretti a vivere blindati in casa per evitare di essere aggrediti dai ratti. Una vera e propria invasione. Arrivano di notte, si arrampicano sino ai piani più alti degli stabili, tanto che gli abitanti della zona sono costretti, nonostante il caldo torrido di questi giorni, di soleoni a vivere blindati con porte e finestre ben chiuse. Non si tratta di un attacco criminale, si tratta di topi. Tanti enormi affamati ratti che infestano la zona di Via Diego Peluso, due passi dall'ospedale annunziata di Taranto. Vivono sugli alberi, la notte scendono a caccia di cibo e acqua. I residenti sono ai limiti della sopportazione, un'invasione, scrivono alcuni cittadini che abitano nella zona, che è particolarmente aggressiva, in quanto i ratti sono arrivati sino al quarto piano delle abitazioni. Abbiamo fatto più telefonate agli uffici dell'Ami di Taranto senza ricevere nessuna assistenza, tralasciando l'indignazione per questa gente che, fregandosi del problema, ci hanno ignorati. Chiediamo l'immediato intervento per la risoluzione bonaria. Abbiamo notato, scrivono esasperati, che i ratti in questione abitano, per così dire, sugli alberi della piazza e che usano i cavi elettrici per arrivare ai palazzi, quindi nei vari appartamenti. Alberi che fanno da cornice a un sudiciume della piazza. Alberi che non vengono potati da anni. Spero proprio che almeno qualcuno prenda provvedimenti, dice un cittadino, e rispettando la carica e il ruolo che riveste faccia un intervento incisivo. Siamo costretti a vivere con finestre e balconi chiusi, raccontano ancora molti di loro. Molti di noi non hanno i climatizzatori per evitare che gli animali entrino negli appartamenti. Tre famiglie di operai della HOM Carrelli di Modugno, con sei bambini al seguito tra i 5 e i 10 anni, ieri hanno consumato il proprio pranzo di Ferragosto davanti ai cancelli della loro fabbrica, che fino a poco tempo fa produceva carrelli e elevatori ed ora è in chiusura. La HOM Carrelli ha proclamato lo stato di crisi due anni fa ed ha tentato in più occasione negli ultimi tempi di portare via anche i macchinari prodotti. I 224 lavoratori si sono ribellati e hanno deciso di presidiare a turno, notte e giorno, la fabbrica per impedire all'azienda di svuotarla. Ieri le famiglie sono state raggiunte anche dal sindaco di Modugno, Magrone. Il Ferragosto è alle spalle, ma c'è ancora tanta voglia di scoprire i tanti tesori che costellano la nostra regione. Ecco allora i prossimi appuntamenti di Open Days Puglia. Aperto per ferie, in sintesi è questo il programma allestito da Puglia Open Days che prevede una serie di attività gratuite e aperture straordinarie, promosso dall'assessorato regionale al turismo e attuato da Puglia Promozione. Protagonisti Bari e la Costa e la Puglia Imperiale, con le eccellenze no gastronomiche, le bellezze naturalistiche, artistiche, culturali e architettoniche, sia civili che religiose. E se i big, come il Teatro Petruzzelli e il Castel del Monte, sono tra i siti più ricercati, Puglia Open Days crea l'occasione giusta per conoscere anche i siti meno noti di questa terra di Federico. Dunque, a Ferragosto, Puglia Open Days non va in vacanza. Molti gli appuntamenti da non perdere. Venerdì 16 agosto, appuntamento con la natura. Nel Parco Naturale, Lama Balice, passeggiata a lungo il letto della Lama, tra cavità naturali e masserie fortificate. Subito dopo, esplorando le stelle, visita guidata all'osservatorio di astronomia. Nel territorio del Sac Mari, tra le mura, nel blu di Pinto di Puglia, escursione in bicicletta lungo la costa tra Torre Incina e San Vito, partendo da Polignano a mare. Nella riserva naturale Salina di Margherita di Savoia, escursione in bicicletta, la scoperta delle saline, tramonto in salina, escursione nella zona umida. Sabato 17, appuntamento invece con l'arte. Nell'area di Bari e la costa, le visite guidate si svolgono nei centri storici di Bitonto, Conversano, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Polignano a mare, Rutigliano e Ruvo di Puglia. E veniamo alla Puglia Imperiale. Le visite guidate si svolgono nei centri storici di Andria, Barletta, Biceglie, Carosa di Puglia, San Ferdinando, Terlizi e Trani. Ad Andria si svela Castel del Monte, il sito Unesco, la cui planimetria, basata sull'otto come numero guida e il suo posizionamento studiato in modo da creare particolari simmetrie di luce nei giorni di solstizio ed equinozio, creano un simbolismo che appassiona da secoli gli studiosi, lasciando ai visitatori una sensazione di piacevole enigma. A Trani sono notevoli la cattedrale, che si affaccia sul mare dedicata a San Nicola Pellegrino, e il castello, la sinagoga di Scolanova, in cui spicca un dipinto di origine bizantina che raffigura la Madonna dei Martiri, protettrice dei marinai. Nel centro storico di Barletta sono aperti la cattedrale con i suoi scavi e l'edificio barocco di Palazzo della Marra, che ospita la Pinacoteca dei Nittis. A Biceglie è aperta anche la concattedrale di San Pietro Postolo, a Canosa di Puglia straordinarie le notti dell'archeologia, aperti e affruibili con visite guidate la cattedrale di San Sabino, il parco archeologico e l'antiquarium di San Giovanni e di San Leucio, i palazzi di Liceto e Sinesi e gli Ipogei. A Terlizzi merita una visita anche la Pinacoteca Michele de Napoli. Tutte le cartoguidi, aggiornamenti, dettagli e contatti sono disponibili sul sito www.opendays.viaggiareimpuglia.it Si chiama Mare per tutti 2013, il progetto del Comune di Corato riservato alle famiglie a basso reddito con più di tre figli minori. Grazie a questo progetto sono 48 i coratini che potranno trascorrere 15 giorni consecutivi di soggiorno balneare gratuito, con la possibilità di usufruire di lido, sdraio e ombrellone a partire dal 19 agosto. Le famiglie rientranti nel progetto accederanno gratuitamente ai lidi di Margherita di Savoia, aderenti al sindacato Sib e Fiba. Oggi ricorre il 198esimo anniversario della nascita di Don Bosco, fondatore della congregazione sanesana diffusa in numerosissime città italiane. Oggi si celebra anche il passaggio dal secondo al terzo anno del cammino di preparazione al bicentenario della nascita del Santo Torinese ed avrà inizio quindi un periodo dedicato alla riscoperta e approfondimento della sua spiritualità. Iniziato il 16 agosto del 2011, il triennio di preparazione si pone l'obiettivo di divulgare la vita e l'opera del Santo e di testimoniare l'attualità del suo apostolato per la comunità credente di oggi. Quest'anno sarà incentrato sulla spiritualità di Don Bosco, fonte della sua azione pastorale. Il ferragosto è soprattutto il giorno dedicato all'assunta in tutte le città pugliesi. È stata ricordata la ricorrenza con una serie di celebrazioni e di manifestazioni della pietà popolare. Ascoltiamo in proposito padre Luigi Ciccolini, rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Come tutti i fedeli in tutte le parti del mondo abbiamo saloneggiato in questo santuario la festa di Maria Assunta in Cielo perché ci ricorda qual è la meta dell'uomo vivere eternamente in Dio e la strada la stessa che ha percorso la Madonna. Voglio solo ricordare due momenti che in questa festa ci hanno un po' caratterizzati. Primo alla vigilia abbiamo fatto una veglia mariana. Ci siamo intrattenuti per più di un'ora pregando, ascoltando e rivedendo la vita di Maria perché quella è la via sicura che porta a Dio. E poi il giorno della festa, dopo l'ultima messa della sera, mentre ormai era notte, abbiamo voluto fare una breve ma sentita processione come si fa all'Urd con i flambò. avanti a tutti dietro la croce c'era Maria, il sacerdote e poi questa marea di fedeli che seguivano Maria proprio per ricordare a tutti noi che è lei che ci guida dietro a Gesù, è lei che illumina la notte dei nostri dubbi, delle nostre difficoltà e devo dire che è stata un'esplosione di gioia e di fede nella semplicità e nella verità. Con Maria possiamo sempre ritrovare la strada giusta. Questa è una delle feste, ma ne abbiamo tante. Auguro a ognuno di voi di vivere questi momenti intensi e di ritrovare quella sua strada che sicuramente non deruderà mai nessuno. E allora questa edizione del nostro giornale si chiude qui, grazie per averci seguito, non andate via, restate con i programmi di Teledeon. C'è una TV aperta alle iniziative delle chiese locali e delle missioni in terre lontane. C'è una TV coinvolta dalle storie quotidiane dei senza voce. C'è una TV sollecita verso i bisogni degli anziani, dei malati, degli emarginati. C'è una TV sensibile alle attività del volontariato e dell'associazionismo solidale. C'è una TV attenta alle vicende delle famiglie, dei giovani, della scuola, del lavoro. C'è una TV che parla al cuore di ognuno per diffondere la buona notizia e che cerca amici per condividere un percorso comune. Amici di Teledeon. Basta un piccolo gesto. Teledeon. La TV del cuore. Perché ci piace comunicare per bene.